Eccoci, guarda i gemellini del suono, i gemellini, i coniglietti, i gemellini, guarda, che simpaticoni, guarda che occhietti, questi coniglietti con questi occhietti, guarda, sembrano in posa quasi. Allora ragazzi, ma quanto amore stiamo trasmettendo con questo video in diretta internazionale, ma tu non devi tremare dal freddo perché altrimenti poi c'è tutto il video con una sfarfallia. Oh ma guarda, ma in quadri da vicino, che sembra, guarda questo, sembra, sembra lì che quasi che sta prendendo il sole. E tu cosa fai? Ti sei incantato? Ragazzi, ma ci siamo o ci facciamo? No, questo è un messaggio anche contro le droghe. Comunque, a proposito del messaggio che avevo detto prima del video precedente, che volevamo ricordare il nostro amico Gigi, che è il papà di tutti questi cuccioli che vedete inquadrati, purtroppo Gigi ha volato in cielo e noi lo ricordiamo sempre e gli auguriamo che possa riposare in pace e lo ricorderemo, insomma, con il sorriso sulle labbra, come facciamo sempre. Poi, Gigi sarà sempre nei nostri cuori perché ci ha lasciato queste splendide creature, appunto, che è frutto di un atto d'amore tra Gigi e la Sally. Questa è la terza o quarta cucciolata, ormai ho perso i conti. Cos'è la terza o la quarta? La terza cucciolata, cioè, ma, oh, state migliorando ragazzi, siete sempre più tranquilli, ogni video è sempre più... più... più imbalsamati. No, che altro non ne possono più. Ma tu non fare questi commenti che siamo in diretta mondiali. Questo è il ciccione, questo è il mio coniglietto nano. Il ciccione. Guarda, ciccione, c'è il ciccione. E poi c'è magia che è soppata, carai. Magia. Che va a campi. E questa è magia. Cioè, l'ho scelta perché ha degli occhietti straordinari. E poi è un musetto dolce, insomma, un po' come il suo padroncino. Guarda, magia. Ecco, niente, volevo solo dirvi che... se avete voglia di adottare un coniglietto nano potete contattarci. No, comunque li trovate. Anche questi sono dei coniglietti nani razza ariete. e hanno bisogno di tanto amore come tutti gli animali che, in quanto tali, come le persone, ovviamente, vanno rispettati ed amati e coccolati. E non mangiati. E non mangiati, ovviamente. Perché come si fa a mangiare una cosa del genere? Cioè, sono solo da coccolare, basta guardare gli occhietti, cioè, ma dove li trovate? Ma dove li trovate? Ragazzi, stiamo tutti vicini, vicini, perché fa un freddo cane. E comunque la primavera sta arrivando e noi abbiamo il sole dentro il cuore. e amore è la soluzione migliore, parola di Lore. Quindi, da Lorenzo Spida è tutto. No, striscia la notizia. Buona vita a tutti e divertitemi, dai. Abbiamo detto un sacco di banalità, ma lo facciamo con un sorriso sulle labbra per farvi sorridere, perché amiate la vita, insomma, come noi. e amiate anche i coniglietti nani. Fanno un'inquadratura qua, che sono tutti vicini, vicini. Eccoli. Che ammocchiata. Bene, dai. Buonanotte a tutti, noi andiamo a dormire con i coniglietti. Ciao.